Grazie a tutti. Non ci credo siamo di nuovo qui. Abbiamo fatto il nostro dovere. Fattene una ragione. Fattela tu. Ragazzi non è il momento. Cole vediamo cosa ci aspetta. Oh merda! Reggetevi a qualcosa! Guardate! 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 Dal! Corri! Muove il culo! Oh! Oh! Andiamo a partire! Vieni qui! JD! Non ci vedo! Non riesco a muovermi! Vieni! Vieni duro, Cole! Dai! Siamo bloccati! Vediamo! Ho delle larve qua su! Merda! Sono anche qui! Tenete quelle merdi alla larga! Andate larve! Odio questi cosi! Non è che possiamo vedersi bene! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Alla scena le calcagna! Non va affatto bene! Non va affatto bene! dobbiamo scendere la giù verranno fatti a bandelli amico no lo so come putta guardatemi questo cazzo di cosa di nostro era l'ultimo grazie ora tirateci fuori di qui grazie non è una buona situazione ascolta il nostro raven è a terra vuoi passarci carmine ah impossibile la sua radio non va sta bene lo vedo al centro quindi sta combattendo ma è circondato dallo sciame sbrigatevi se possibile arriviamo subito forza del andiamo niente motosega eh lo so ci hanno veramente a dietro per andare qua e questo tipo qui no potenziamento dov'è? adesso lo facciamo anche tu eh? lo facciamo anche tu non bisogna entrare di questo quindi niente ne accumuliamo tre quello io lo facciamo anche tu non ferma di me non meraviglio fuori di giù c'è il impulso dobbiamo passare qua di data dobbiamo passare qua di data bene bene di qua wow perdo uno swarmax su di noi parlo dei db per farlo fuori raggiungete carmine sprecciamuto ci siamo quasi c'è il cazzo 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 granata 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 pesano due figatti panza libera a tutti i camion di evacuazione andate al centro non vi fermate Lizzie qui delta c'è uno swarmax nell'insediamento tiene il convoglio alla larga ah delta volevo farci qualche giro intorno attenzione caporale sono velocissimi delta chiudo oh un'altra cosa il potenziamento ne siamo a due e un fai sti cazzo non ci siamo ora allora cazzo cazzo che bisogna fare ah qua convoglio per noi abbiamo perso abbiamo perso i nostri db e abbiamo dei civili lezzi delta richiede un'estrazione di civili settore 8 complesso abitativo grazie tenente nessun problema soldato andiamo delta ok felice che siete arrivati signore scusi ancora verifragliateli pagati siete venuti a prenderci no ma sta arrivando un convoglio attenzione attenzione la fuori grazie ricevuti andiamo delta controllo non importa so pensato io tranquilla vizzi oh sorella tu sei fuori cosa possiamo fare basta che sgomberiate questa via siamo bloccati qui l'avete sentita torniamo al lavoro oh 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 verde stiamo assistendo un convoglio bloccato potrebbero servirci i rinforzi ricevuto delta vi mando subito un condo fenix per l'ultima volta cazzo sono io l'ufficiale di grado superiore i rinforzi li chiamo io ehi signore ci penso io e stai abbattuto forza le trasversioni contro i cioci saranno pulite quindi questo è lo shame eh non sono colpita avanti diseguo avanti avanti nessuno distrugge i miei camion prendo io jd il tuo condore vicino che ti serve il tenente vuole dei guardiani oh allora sono io in arrivo non possiamo caricare i civili sui camion se non ce ne sono sto arrivando sto arrivando occhio ok 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 accecante ne rimane uno delta ne rimane uno delta metto metto io metto io non ce ne rimane uno delta non ce ne rimane uno delta non ce ne rimane uno delta Il tempo è diventato Non, non, non è proprio il tempo via libera si è tutto bene qui si dobbiamo solo mettere in moto la squadra di carmine è stata sopraffatta sono barricati con i civili nella torre non dureranno a lungo se non vi muovete serve al centro vai ci arrivi dal parco il cancello è vicino ai gradini l'avete sentita muoviamoci ecco il mitragione calma no bene così ok 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 allora ok tutto ok sai per te non sarà difficile sparare agli innocenti ma per me sì innocenti eh innocenti quindi la gente che lancia bombe incendiari è innocenti me lo segno ehi tutti e due smettetela aspetta questa l'avevo sentita siete stati voi tre non tre uno di noi ha mantenuto i propri db sotto controllo che diavolo è successo abbiamo identificato ed eliminato elementi insurrezionalisti no avete sparato su una manifestazione in ogni gregge ci vuole l'abbattimento selettivo no no lo so io chi abbatterei in questo gregge no il coglione però con la corazza blu ok quel che è stato è stato ora concentriamoci sul completare l'evacuazione hai ragione il centro è davanti a noi presto aiutiamo carmine si attraversa da qui ok non possiamo passare di qua di là dall'altro che cavolo bello adesso vengono abbattuti anche i nostri condors si scuspetto che quello su orma che l'ha tirato giù ogni condor che passiamo ma che cazzo bordo vengono bordo bordo l'apopo spessore l'amore ma sori ho lasciato a terra l'altra bordo col cazzo i db di carmine possono ancora combattere andiamo se che carmine sia in quella torre coi civili facciamo vedere a quei db come si fa ripuliamo la piazza merda sono ovunque fanno la torrezza la muoviamo la canata andiamo baby ne vuoi ancora? penso proprio di nuovo siamo al macerro un buon via un buon iniziamo un buon con il la piazza è libera ricevuto tieni civili al sicuro noi sistemiamo le cose qui fuori che c'è qui lancer con lancia questo tempo questo mi piace arrivano bene detta arrostiamoli c'è il caccecante per restante guarda un sion granata 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 c'è il caccecante caccecante sto pensando di caricare poi il video granata caratterò poi sui il caccio non puoi iniziare a riuscire a comare a poi sui sui forte di mangiare Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info fate guardi ah 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 wow uuuu wow torriamo ai xeri come va? ma non mi smicchia troppo non mi smicchia troppo non puoi stare Ehi, qualcuno monti sulla torretta! Che torretta? Non c'è stata la torretta Ah, a destra, qua Qualcuno ha uno stabilizzatore canna? Un calcio, qualcuno? Perché questa sminca pure Guarda, guarda dietro Ah, mi sta partecipando Ho capito Perché io subo Perché io subo Usare tutto il mitra di andare Cambia Usa la... Usa, usa, usa Ma sono qui mi deve... No, 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 devi darmi tempo Che si ricarichi Perché si scarichi da parte E se non ti troppo si riscatta Morto Ehi! 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 Oh, ben8 No, ben9 e liberi successo dove mi chiede E indietro! Sparate quando sono a tiro! Quella cosa! Non mi inchiazzirà! Col cavolo! Sei a posto, non mi inchiazzare. Oh, è una bestia grossa e brutta, eh? Chiarito! Venite qui! Tutte armi che non c'è trattato. Andiamo, perra! Pensi di fare paura? Ah! Non fai paura, struggera! Ah, su grosso! Oh, merda! Ehi, Necher! Da questa parte! Rengitela con qualcuno della tua taglia! Necher a terra! Carmine, la piazza è sicura! Prossegui con l'evacuazione! Questa è il merdato di sangue, guardala! Chi è? Perché non lo vede? Eh, ma perché mi sono buttato a lanciare queste cose? Una volta proprio faccia a faccia e ho iniziato a sparare! Che sei soldo! Niente oggetti personali! Carmine! Accidenti! Hai salvato Montevideo oggi, sergento! Ah, ah! L'ammazzavermi è tornato! Ammazzavermi, ammazza sciame, fa lo stesso! Ah, salvato dai miei vecchi allievi! Tio Clay! E ora mi devo rialzare! Mi stavo preoccupando, non hai fatto rapporto! La radio è morta e loro mi hanno tratta d'impaccio! Ti sono doppiamente debitore! E ora che c'è! Aprite il fuoco! Giù! Oh, ma che cazzo! Oh, merda! Svelti, scappiamo!